La certezza è che la prima campanella suonerà lunedì 13 settembre per tutti i 1500 all'unni circa del liceo Marconi di Pescara. Quel che invece ancora non è certo è la sede che ospiterà 17 classi fino a ottobre, secondo il piano previsto per il ricollocamento delle 64 classi del liceo pescarese, che si prepara ad affrontare una vera e propria diaspora in questo imminente anno scolastico, per consentire l'abbattimento e la ricostruzione della storica sede di via Marino da Caramanico. Le cinque sedi individuate per ospitare gli allunni sono quelle di Marzio Michetti, dell'Aterno Mantonè, del De Cecco, dell'ex Accademia Musicale Pescarese di Via dei Peligni e il Palazzo dell'Ex Fater, che però non sarà pronto prima di ottobre. Ed è questo il primo scoglio da superare per la neodirigente scolastica del Marconi, Giovanna Ferrante, proveniente dall'Ipsar di Villa Santa Maria, che dovrà gestire un anno tutt'altro che facile. Per quella che la sua prima intervista televisiva, nelle vesti di nuova dirigente del Marconi, abbiamo raggiunto Giovanna Ferrante in Via Vezzano, nei locali che la provincia di Pescara ha messo a disposizione per gli uffici della direzione e dell'amministrazione del Marconi. Ho ereditato una situazione abbastanza critica, ma nulla ci spaventa, perché abbiamo la forza e la volontà e la passione e l'entusiasmo di voler trasformare tutte le negatività in positività. È da questo che bisogna partire. Quest'anno sarà veramente problematico, in quanto dovremmo spostarci in sei sedi diverse, cinque destinate agli alunni e una destinata agli uffici. Il 13 settembre tutti torneranno, quasi tutti torneranno. Ho appena appreso che alcune classi in una sede lunedì prossimo non potranno accedere. Vedremo di trovare in questi pochi, pochissimi giorni, delle soluzioni alternative, almeno per un mese, un mese e mezzo, perché le criticità di questa sede investono circa 30-40 giorni. Cosa si fa? Didattica a distanza? La didattica a distanza non è assolutamente percorribile, in quanto essa è legata esclusivamente alla pandemia. Ci sarebbe un'altra strada che non voglio percorrere assolutamente, ed è quella di fare i doppi turni. Mi batterò affinché ciò non avvenga, in quanto i nostri ragazzi già sono penalizzati a dover cambiare sede. Non voglio assolutamente che vivano un ulteriore disagio, di arrivare a scuola nel pomeriggio e tornare a casa tardi. Quindi sarebbe disagio su disagio. Voi mi direte, e cosa si farà? Credo ancora nei miracoli. Qualche miracolo dovrà pur arrivare. Ma il diritto allo studio sarà assicurato dal 13 settembre a tutti i 1500 ragazzi del Marconi. Ma al di là dei miracoli, una soluzione percorribile ci dovrà pur essere? Nella mia mente c'è, l'ho maturata un minuto fa, di andare a chiedere alloggio all'università. Qualcosa faremo? Anzi, andrò subito dal rettore, telefonerò subito al rettore e chiederò un incontro urgentissimo.